Ricordate il futuro. Devi tornare indietro con me. Dove? Indietro nel futuro. Torna dal passato della Lazio per salvarne il futuro. Riecco è di Reia. Dopo aver vagliato piste suggestive, idding e trap, soluzioni interne e quelle di ripiego, Lotito ha deciso di partire per il dopo Petkovic all'insegna dell'usato sicuro. Ma non chiamatelo traghettatore, il buon vecchio Eddie. Si è accordato fino al 2015 per un ingaggio complessivo di 1.300.000 euro. A giugno però le parti decideranno il da farsi con la possibilità che Reia diventi responsabile dell'area tecnica biancoceleste. Ma questo è già futuro anteriore. L'attualità è il primo allenamento del suo secondo mandato, col tecnico della primavera scudettata Bollini come secondo. A una settimana dal big match contro l'Inter le prossime mosse saranno tipicamente reiane, colloqui collettivi e individuali con un gruppo da rimotivare e certezze tattiche da ripristinare a partire dalla difesa. Nelle sue due precedenti stagioni e mezzo a Formello, dal febbraio 2010 al giugno 2012, la Lazio conquistò una salvezza e due piazzamenti europei a un soffio della Champions, pur non esprimendo mai un gioco per palati fini. Per questo e per alcuni conflittuali rapporti interni la storia si interruppe. Ieri a Formello un lungo colloquio tra il goriziano e il DS e i glitare a posto le basi per un reset. Dalla composizione dello staff al mercato incombente ai progetti a medio termine, i due ex nemici hanno parlato di tutto. Certamente non di Petkovic, che ufficialmente non è stato ancora esonerato. La società infatti lo ha sospeso attraverso una lettera in cui gli addebita la mancata comunicazione dell'accordo con la Federcalcio Svizzera. Si finirà davanti a un giudice del lavoro. Ma questo è un passato che non tornerà. Quello che è già tornato si chiama Edoardo Reia, il 68enne con la grinta di un ragazzino. Grazie a tutti.